Il testimone di Cristo deve essere un testimone autentico, un testimone che lo annunzia con la testimonianza della sua vita, non con la parola. Parola è vita. Ecco, la Pasqua oggi ci dà queste indicazioni. Crediamo nel Signore Gesù nella misura in cui lo amiamo e lo siamo se si è fedeli alla sua parola. Abbiamo la certezza che da questa fede un compito a noi. Dobbiamo essere capaci di rendere evidente la risurrezione di Cristo, di rendere evidente che Lui realmente ha sconfitto la morte. E dunque da tutto questo possiamo celebrare la festa con azimi di sincerità e verità. Ecco oggi questa parola del Signore ha un significato particolare. Non siamo in grado di celebrare la festa, viviamo un momento di fatica, di paure, di incertezze, ma oggi è il giorno della speranza. Cristo ha sconfitto la morte. Cristo è con noi. Cristo ci domanda di fidarci di Lui, di abbandonarci a Lui, di amarlo e di sentirci coinvolti in questa stupenda avventura, andare per le strade del mondo. Cristo, nostra Pasqua, è risorto. Facciamo festa. Grazie a tutti.